Questa è una prova che si può effettuare soltanto in pista, perché proveremo a fare da 60 a 160 km all'ora, quindi superando i limiti di velocità consentiti. Stabilizziamo la velocità della vettura a 60 km all'ora, in quarta marcia, in modalità sport. A questo punto premiamo a fondo l'acceleratore. Grazie ai 206 Nm di coppia, costanti, vediamo la rapidità con cui comincia a salire i contachilometri e i contagiri. Sono praticamente allineati 100 all'ora, 120, 130, 150 all'ora 5.000 giri, 160 all'ora quasi 6.000 giri e lo scistaggio va a cambiare marcia.